Siamo all'ottavo giorno della settantunesima edizione della Mostra d'Arte Internazionale Cinematografica di Venezia e ci prepariamo alle polemiche. Polemiche inevitabili perché Sabina Guzzanti ha portato a Lido fuori concorso La Trattativa, un film che intende raccontare con la precisione di un'inchiesta giornalistica svelando i segreti e le omissioni il rapporto tra Stato e mafia. Ma che siamo stati noi o i calabresi? A me lo chiede, io allunga il salto. Eccomi, scusate il ritardo, però c'è il traffico. Questa recitazione che però è importante in questo film perché appunto continuamente ricordiamo allo spettatore che è il punto di vista di questo o quel testimone e quindi c'è una onestà totale nel presentare questi eventi, questi fatti, cheppure sono fatti tutti realmente accaduti. Lo scopo del film è proprio quello di mettere tutti in grado, tutti nel senso anche chi non legge saggi, specialistici, chi non legge il giornale tutti i giorni, chi non lo legge mai, di capire di che cosa si tratta per dei fatti che comunque hanno cambiato il corso della nostra democrazia. Di meno peso politico è invece il film in concorso di Alex Delaporte, Le Dernier Coupe de Marteau, che racconta la doppia rivoluzione del giovane Victor. Cinema e adolescenza si uniscono in un film che celebra la musica e i sentimenti. Sì, è vero, devi gioare solo forte. Grazie a tutti.